La propaganda raramente produce grande arte ma ci sono sempre delle incredibili eccezioni. In quest'opera, diretta e in qualche modo commovente, David racconta la morte di un amico e compagno rivoluzionario. La vittima, Jean Paul Marat, è un membro di spicco della convenzione nazionale, l'organo di governo in Francia tra il 1792 e il 95 durante il Regno del Terrore, i giorni più violenti della rivoluzione francese. Le piani politiche di Marat gli procurano molti nemici soprattutto dopo la caduta di una delle fazioni francesi più moderate, quella dei Girondini e il 13 luglio 1793 una giovane donna, Charlotte Corday, ottiene udienza con lui nel suo bagno. So che può suonare insolito ma in realtà non lo è. Marat soffre infatti di una malattia della pelle che lo costringe a fare banni frequenti quindi utilizza questo luogo come suo ufficio. Durante l'incontro la donna tira fuori un coltello marino e pugna la Marat a morte. Ma non la scampa. Il 17 luglio, quindi solo 4 giorni dopo l'assassinio, viene mandata alla ghigliottina. Durante il processo dichiara di aver ucciso un uomo per salvare 100.000 vite. Ma come nasce quest'opera e perché la realizza proprio David? Il giorno dopo l'omicidio di Marat David viene invitato dalla convenzione a organizzare il funerale dell'amico e a dipingere un memoriale per la sua morte. Inizia immediatamente a lavorare e in tre mesi il quadro è pronto. David è la scelta più ovvia per questo compito in parte perché conosce molto bene Marat e ne condivide gli ideali e in parte perché il suo stile neoclassico e per certi versi rigoroso si adatta alla gravità richiesta da questo genere di tema. Del resto durante la rivoluzione Marat è uno degli uomini più potenti di Francia. Ha lasciato il segno come giornalista dirigendo un giornale radicale chiamato l'amico del popolo in cui si scaglia contro i nemici dello Stato chiedendo la loro distruzione. E la rappresentazione di Marat da parte di David quindi è più propaganda che il ritratto vero e proprio. Altre ha l'aspetto del suo amico per adattarlo all'immagine di un eroe, di un martire. Elimina del tutto lo scolorimento e le imperfezioni della sua pelle e lo fa sembrare più giovane dei suoi 50 anni. Ma mantiene un unico dettaglio della realtà nella scena. Marat infatti indossa un panno imbevuto di aceto intorno alla testa per alleviare il dolore causato da questo disturbo che ha alla pelle. David decide inoltre di prestare particolare attenzione alle condizioni del bagno di Marat, per certi versi un po' spoglio e spartano, per sottolineare che il suo amico è un uomo del popolo. Sceglie quindi di rappresentare una vecchia cassa di legno ai piedi della vasca con l'idea che servisse al politico come scrivania improvvisata. Inoltre la sua superficie usurata offre all'artista uno spazio di rilievo e in primo piano per esporre la sua dedica, a Marat e ovviamente la sua firma. David è ansioso di creare un tributo al suo amico quindi decide deliberatamente di minimizzare gli aspetti più violenti del suo soggetto. Si tratta di un omicidio appena avvenuto ma non c'è quasi sangue nella scena, solo alcune macchie sul lenzuolo. Allo stesso modo non c'è praticamente sangue sul corpo della vittima. La ferita nel petto di Marat è in gran parte nascosta nell'ombra mentre il taglio in sé onestamente non sembra neanche abbastanza grave da poter essere stato un colpo fatale. Ma David non lascia nulla al caso. Il dettaglio più cruento dell'attacco è infatti l'acqua stessa della vasca che è diventata dopo l'attacco completamente rossa di sangue. Anche qui però David minimizza l'effetto adottando un punto di vista molto basso in modo che sia visibile solo una striscia di sangue e se si guarda con molta attenzione. Diamo un'occhiata all'arma del delitto. Il coltello con cui la donna ha colpito Marat è sul pavimento come se l'assassino lo avesse lasciato cadere e poi fosse fuggito. Nella realtà non è andata così. La donna infatti si racconta che non abbia neanche tentato di fuggire ma che abbia aspettato di essere arrestata. Secondo alcuni resoconti addirittura il coltello al momento della scoperta dell'omicidio è ancora nel petto di Marat. Ma David esclude qualsiasi caratteristica che possa non dare il senso di questo martirio eroico del suo amico. Il dipinto di David quindi mostra un misto di verità e costruzione. L'artista conosce bene i dettagli del bagno di Marat e la sua malattia della pelle. Rimuove però del tutto i segni della malattia aveva lasciato sul volto della vittima pur rappresentando altri elementi con grande precisione. È perfettamente vero ad esempio che Marat ha l'abitudine di stendere un lenzuolo sulla base della vasca da bagno in modo che le sue piaghe non sfreghino contro il rivestimento di rame della vasca stessa. David quindi decide cosa inserire nell'opera dalla realtà e cosa invece nasce dal desiderio di rappresentazione ideale. E uno dei punti centrali del dipinto è questa incredibile sezione di natura morta. Ciascuno degli oggetti infatti racconta la propria parte della storia. A causa della sua condizione della pelle Marat viene costretto a trascorrere molto tempo nel suo bagno abbiamo detto quindi lo usa un po' come ufficio. Per questo motivo David in primo piano lascia una lettera e del denaro per una vedova di guerra. Ci dà l'idea che Marat abbia appena completato il biglietto perché ha ancora la penna in mano. Ma c'è un altro foglio che fa da protagonista della scena la lettera di presentazione della cordè sporca di sangue e messa in un angolo. Su questa si legge una frase del tipo la mia grande infelicità è una ragione sufficiente per avere diritto alla tua gentilezza. Ancora una volta David quindi distorce la verità per mettere in luce la generosità del suo amico e la cattiveria dell'assassino. Infatti alla donna è stata concessa l'udienza perché affermava di avere delle informazioni interessanti per Marat sui ribelli. Dal punto di vista della composizione David decide di ridurre la scena all'essenziale e di collocarla non solo in un luogo ma in un momento temporale specifico. Non rappresenta il momento dell'assassinio e neanche quello della scoperta del corpo. Rappresenta un momento intermedio che può essere lungo un attimo o delle ore in cui solo noi siamo autorizzati a vedere la scena e quasi ci viene voglia di chiamare aiuto. In questo essere fuori dal tempo sta tutto il messaggio dell'opera che altro non vuole essere se non l'esaltazione di un martire. David rimuove l'arredamento del bagno di Marat e lo sostituisce con uno sfondo verde scuro in cui il corpo in primo piano è il protagonista. Si racconta che l'ispirazione per questa ambientazione sia nata nella chiesa in cui il corpo dell'amico viene inizialmente seppellito. A causa degli anni della rivoluzione e dei numerosi cambiamenti politici infatti il corpo verrà spostato più volte dopo l'iniziale sepoltura fino ad essere seppellito in un cimitero comune che andrà distrutto nell'ottocento. In ogni caso David sostituisce quella che era l'insolita vasca da bagno a forma di stivale di Marat con un design più tradizionale e concentra la nostra attenzione sul braccio abbandonato in primo piano ispirandosi alla posa del corpo del Cristo mentre viene deposto dalla croce. L'artista potrebbe essersi ispirato ad un antico rilievo scolpito noto come il letto di Policleto ma la storia dello spostamento del corpo di Marat non è l'unica stranezza del periodo. Dopo la rivoluzione il dipinto si rivela motivo di imbarazzo per il nuovo regime e nel 1695 viene letteralmente restituito a David. Non viene più esposto in Francia fino al 1846, 21 anni dopo la morte di David, quando il poeta e critico d'arte Baudelaire ne riscopre la storia. Da un punto di vista della tecnica l'opera è in linea con molti altri capolavori di David. In comune con quella della maggior parte degli artisti neoclassici le figure di David mostrano infatti una finitura liscia e lucida e un aspetto scultorio che ricorda le statue dell'antichità. Non è un caso quindi che una delle possibili fonti di Marat sia un rilievo classico. A David piace anche utilizzare effetti di luce teatrali per evidenziare gli elementi più significativi nelle sue immagini. Quindi mentre la testa, le braccia e la cassa di Marat sono illuminate i dettagli più cruenti sono lasciati nell'ombra. Ma per capire al meglio l'opera facciamo un passo indietro e scopriamo qualcosa di più sull'artista David. Viene considerato il principale pittore neoclassico in Europa e trae ispirazione principalmente dai tempi turbolenti in cui vive producendo così i suoi più grandi capolavori in piena rivoluzione francese. Nasce a Parigi dove si forma con il pittore Joseph Marie Vienne. Nel 1774 vince il premio di Roma che gli permette di finanziare i suoi studi in Italia. David trascorre nel nostro paese cinque anni assorbendo l'arte classica e non solo. Al suo ritorno a Parigi sviluppa una nuova e potente visione dell'antico. Attinge ai temi della storia greca e romana e dipinge una serie di tele che esaltano le virtù morali, il coraggio e il sacrificio di sé. Ovviamente questi temi riflettono il crescente clima di ribellione in Francia nei giorni precedenti alla rivoluzione. Quando inizia la rivolta nel 1789 David si impegna pienamente nella causa. Aderisce alla convenzione nazionale di cui fa parte Marat, organizza spettacoli rivoluzionari e vota per l'esecuzione di Luigi XVI. E tutte queste attività gli costano quasi la vita ma riesce a sopravvivere, costretto solo ad un breve periodo di prigionia. Nel tempo e con lo stesso grado di entusiasmo David sostiene anche il governo di Napoleone. Abbraccia la sua causa così tanto da diventare il primo pittore nel 1804 e continua a produrre una serie di opere splendide che glorificano il nuovo regime. Dopo la caduta di Napoleone però decide di trasferirsi a Bruxelles e vive il resto dei suoi giorni in una sorta di esilio. Se sei arrivato fin qui benvenuto nell'arte club per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag arte club e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. L'opera di David e questo quadro in particolare dopo la riscoperta grazie a Baudelaire sono diventati centrali nella nostra cultura occidentale e nonostante il legame forte con uno specifico avvenimento nel tempo e nello spazio questo quadro è riuscito comunque a diventare un simbolo. L'idea di David in fin dei conti è quella di rendere il suo amico Marat un martire ma anche quella di creare un esempio di pittura di racconto di un episodio violento con grande eleganza e attenzione al dettaglio. E questo gli ha garantito non solo l'esistenza di numerose copie di quest'opera ma anche il divenire di ispirazione per grandi artisti del Novecento. Due infatti sono le versioni più famose di quest'opera, la morte di Marat realizzata nel 1907 da Munch, lo stesso dell'urlo, è una stampa di Picasso del 1934. In entrambi i casi il soggetto è solo un'ispirazione per temi differenti e probabilmente più moderni o quantomeno non legati ad un episodio della storia. E se anche tu come me ami scoprire le storie dietro ai grandi capolavori dell'arte e comprendere le caratteristiche che hanno fatto grandi gli artisti ai movimenti ti suggerisco di dare un'occhiata al mio video sul romanticismo nell'arte e di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. Grazie e alla prossima!